Non c'è sfida che non passi per un'Europa più forte, dai cambiamenti climatici alla sicurezza alimentare, abbiamo bisogno di più Europa per affrontare queste sfide internazionali e noi ci auguriamo che questa nuova Commissione abbia forza ed energia per andare nella direzione giusta. La priorità per questi 5 anni è avere una nuova politica agricola ben finanziata ma capace di rispondere alle grandi esigenze di sostenibilità, di lotta ai cambiamenti climatici, evitare una lenta rinazionalizzazione delle sue politiche, riuscire a mettere più forza e più energia sulle scelte comuni, salvare il mercato unico, evitare le proliferazioni di leggi nazionali, avere più coraggio nell'affrontare i grandi temi internazionali.